La cima inviolata dello Janu East nel mirino dei Ranni. Due maglioni rossi sono partiti alla volta del Nepal, dove tenteranno di scalare in stile alpino una vetta inviolata di 7.460 metri. Un obiettivo bello e ambizioso per David Bacci e Luca Moroni, giovani che già lo scorso anno sono stati i protagonisti della ripetizione della difficilissima Zek Direct al Mondenali in Alaska. Finalmente, dopo una lunga estate di allenamenti, si riparte per un'altra grande avventura. Racconta David Bacci. Lo Janu East è una cima inviolata situata in uno dei luoghi più remoti e affascinanti del Nepal, vicino al famigerato Kaceniunga, uno dei grandi 8.000 himalaiani. Solo per arrivarci servono circa 12 giorni di trekking, partendo dalla giungla nepalese. Janu East si trova non molto distante dalla cima principale dello Janu, che lo sopravanza di circa 200 metri. Queste vette si innalzano sopra i ghiacciai con pareti estremamente ripide e complesse su ogni versante e rappresentano una delle sfide più affascinanti ed estreme per l'alpinismo tecnico d'alta quota. La vetta principale del monte venne già salita nel 1962 dalla spedizione francese guidata da Lionel Terre, per poi essere affrontata a lungo linee di salita differenti e con alterni successi. Sullo Janu East invece si sono cimentate negli anni scorsi svariate spedizioni di alpinisti sloveni, ma senza successo. I due ragni hanno intenzione di affrontare questa salita nel più rigoroso stile alpino, quindi senza l'utilizzo di bombole d'ossigeno, portatori d'alta quota e corde fisse. Siamo entusiasti per questa nuova spedizione e nei prossimi due mesi faremo tutti il tifo per loro, spiega il presidente dei ragni Matteo della Bordella. Resteremo in contatto diretto con i ragazzi nelle varie fasi della spedizione e rifornire il miglior supporto possibile. Siamo certi che abbiano la preparazione e le capacità per affrontare al meglio questa grande esperienza himalajana.